Quinta corsa, premio Benevento, pulete di tre anni, uno Olimpia Trio guidata da Moreno Maccagnani, due Osei Nazzam Libardo, tre Obimamo Obechicchi, quattro Oxer Trio Uldberg, cinque Oriali Parisini, sei Olimpiche FD Ferranti, in seconda fila sette Osavir Arnaldo Pollini, otto Organo Remberg, nove Ocagmo Aristide Trivellato, dieci Olmar Dieolo Bongiovanni, undici Olaghe Nicola Bortolotti, dodici Ottos Gens Marani, tredici Juan Cio Dari, quattordici Ormuz, Marcello Mazzarini. Si avvia al comando col numero uno Olimpia Trio, dietro di lei si apposta il quattro Oxer Trio, mentre rompe Olimpiche FD. Olimpiche FD, Oxer Trio in seconda posizione, dietro Olimpia Trio, terzo in corda è il cinque Oriali, terzetto che conduce nettamente la corsa, davanti al dieci Olmar Dieolo, pressato a largo dal quattordici Ormuz che avanza. Ormuz numero quattordici avvicina Olimpia Trio, numero uno ma rompe sulla seconda curva. si rimette abbastanza prontamente Ormuz, Olimpia Trio continua a condurre davanti a Oxer Trio, all'esterno viene Oriali numero cinque, completa un terzetto di testa, mentre Ormuz va a superare Ormuz in lotta con Olmar Dieolo. Olimpia Trio conclude al comando il chilometro in 1.27. in seconda posizione Oriali davanti a Oxer Trio, affiancato da Ormuz. Ormuz tenta di avanzare, guadagna qualcosa su Oxer Trio, ma è Oriali a puntare sulla... duello finale fra Olimpia Trio che si allunga e Oriali, Oriali rinviene ancora, Oriali sul palo raggiunge e batte Olimpia Trio a terzo Ormuz. un'attro e liberale altri due alti, due alti,